Il 4 dicembre votare no è l'unica maniera per cambiare l'Italia e l'Europa. Perché? Perché basta guardare chi sostiene Renzi e la sua riforma. Sono quelli che ci hanno portato nella crisi. Le banche, le agenzie di rating, i gruppi industriali, la BCE, la Merkel, i potenti. Loro non sopportano una Costituzione nata dalla lotta della resistenza. Loro non sopportano i nostri valori. Sono gli stessi che quando ci sono stati i fallimenti delle banche hanno dato la colpa ai cittadini, ai popoli cosiddetti spendaccioni e ai rispermiatori ingenui. E ora Renzi sta facendo lo stesso gioco. Per difendere e nascondere la propria inettitudine e incapacità dice che la colpa è della nostra carta fondamentale. Questo è scandaloso. 4 dicembre vincerà il no. Il no garantirà progresso e innovazione. Garantirà quello che c'è scritto nella nostra carta fondamentale.